Nuovi episodi di spaccio in Valle Camonica. Nel pomeriggio di mercoledì 5 maggio i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Breno hanno tratto in arresto una 38enne del paese colta in flagrante mentre stava smerciando una dose di cocaina, una sua coetanea che peraltro aveva con sé il figlio di pochi mesi nel passeggino. I militari che stavano svolgendo una perlustrazione hanno notato la donna che si trovava a bordo della sua auto alla quale si era avvicinata la mamma. Quest'ultima estratto 40 euro dalle tasche le ha consegnata la pusher in cambio di una dose di cocaina, uno scambio che non è andato in porto proprio per l'intervento dei carabinieri. La spacciatrice è stata trovata in possesso di 25 grammi di polvere bianca nascoste all'interno del reggiseno. Ammesse le proprie responsabilità la donna si è giustificata dicendo che aveva perso il lavoro a causa della pandemia e pertanto aveva intrapreso l'attività illecita. A sua volta l'acquirente si è difesa affermando che lo stupefacente era destinato ad una terza persona. La 38enne è stata dunque arrestata per povertà scorso la notte in camera di sicurezza Breno è stata tradotta in tribunale. Davanti al giudice ha ammesso quanto accaduto ed è stata rimessa in libertà in attesa del processo.